6 gennaio di Bifaria Bene, è un nuovo anno che comincia all'insegna di cose buone, di cose belle perché anche il Polivalente vive questa festa, la vive come realizzazione di un progetto che è nato per spettacolarizzare tutto ciò che è possibile e quindi in questa ottica a continuità con quello che è stato il passato, che è ideato il presente che lo gestisce e il futuro speriamo che lo valorizzi questo è anche il nostro progetto, siamo sempre presenti cercheremo di impegnarci il massimo possibile per cercare di rispondere sempre presenti alle attese